Oggi davvero è una giornata importante perché facciamo l'inaugurazione di questo murales che è una iniziativa voluta all'interno del progetto CEDRO 2.0 e ha voluto coinvolgere anche questa comunità facendo delle attività di abbellimento di questa struttura per mandare un messaggio di allegria e soprattutto di situazioni belle e positive in cui anche le persone con disabilità possono stare. È stata un'esperienza che ha coinvolto giovani studenti e quindi anche un'esperienza di forte inclusione sociale. Grande soddisfazione e un'esperienza da ripetere. Siamo qui davanti all'opera murale realizzata ad ottobre da Rosmunda che è un'artista che è venuta qui in soggiorno in residenza d'artista per questo progetto. Si chiama Interazioni tra generazioni, il progetto e riguarda una serie di percorsi di laboratorio didattico con la comunità Il Diamante e anche un PCTO con l'Istituto De Amicis di Rovigo in particolare con il socio sanitario che è l'indirizzo che appunto abbiamo ospitato in questa struttura dando vita quindi a quello che è un dialogo tra giovani generazioni e adulti in particolare avendo un occhio di riguardo per la disabilità che è una tematica che sta molto a cuore alla nostra associazione Art Flood. In particolare Adali Spiegate rappresenta la libertà di essere se stessi e quindi si inserisce a pieno nella decima edizione, questo è l'ultimo appuntamento di Deltarte dedicata proprio a quelle che sono le diversità e alle unicità e quindi abbiamo chiuso veramente in bellezza con quest'opera che è un inno ad essere appunto se stessi, ad accettare e apprezzare quelli che sono i diversi, gli ultimi, i più fragili e anche i più debole della popolazione e invitiamo anche i giovani ragazzi a fare volontariato attraverso queste comunità che hanno tanto da insegnarci. Sì anche per noi è un momento di grande felicità perché tutto questo è nato dall'incontro appunto con Melania, l'opportunità di portare colore diciamo anche in senso metaforico quasi portando proprio un dipinto bellissimo fatto appunto dall'amica Rosmunda e dietro a questa nuova presentazione, a questa nuova facciata c'è anche la voglia di presentarci in modo nuovo, dinamico alla città e ripresentare il servizio che facciamo, un servizio che vuole essere soprattutto inclusione ma anche un nuovo messaggio di apertura, cioè la comunità è un luogo dove essere in qualche modo protetti, fare delle esperienze ma è anche l'opportunità di uscire, di presentarsi e ripresentarci con nuove caratteristiche, nuove energie per cui ringraziamo tutti coloro che grazie al progetto Cedro hanno creato le condizioni per realizzare questa opera e il progetto che poi ci sta dietro per cui l'incontro con le scuole, con ragazzi che stanno facendo attività con i nostri ospiti, il comune e tutti quelli che hanno partecipato. Saremo molto felici di accogliere altre persone e incontrarci tra le nostre mura.